Promesse elettorali non mantenute dal sindaco e poca trasparenza sono le accuse mosse dalla Lega Fano che oggi torna a ribadire la posizione del partito sulla fusione tra Aset e Marche e molti servizi. Le acque infatti rimangono agitate in consiglio comunale, soprattutto dopo l'approvazione della mozione su Aset pubblica e autonoma presentata dalla Lega insieme al Movimento 5 Stelle e Fano città ideale. A votare a favore anche quattro consiglieri di maggioranza, Carla Luzzi di Incomune, Agnese Giacomoni, Giovanni Clini e Stefano Lucioli del Partito Democratico. Per questo Massimo Seri ha ritenuto fondamentale provvedere a una verifica di maggioranza e ha convocato per domani alle 18.30 nella Sala della Concordia gli assessori, i segretari di partito e i capi gruppo. Quello che chiediamo al Sindaco Seri con fermezza come Lega è trasparenza su tutta la vicenda Aset, Marche e molti servizi e il biodigestore. Con una mozione votata dalla maggioranza in consiglio comunale abbiamo chiesto ad Aset di guardarsi intorno non solo a Marche e molti servizi, anzi escludendo Marche e molti servizi perché ci ha preso in giro fino ad oggi sulla realizzazione del biodigestore. Però noi vogliamo chiarezza anche sulla fusione Aset e Marche e molti servizi perché era stato detto in campagna elettorale e anche dal consiglio comunale che non si sarebbe mai fatta la fusione tra Aset e Marche e molti servizi. Oggi dalle dichiarazioni del Sindaco Seri, dalle pressioni del Presidente della provincia Peppino Paolini e dalle pressioni del PD provinciale e regionale invece vediamo questa tendenza di ritornare verso la fusione. Quindi noi vogliamo chiarezza una volta per tutte da parte del Sindaco Seri, fuori dalla politica, dalle aziende municipalizzate. Aset deve rimanere pubblica e del Comune di Fano. E la risposta del primo cittadino non si è fatta attendere. Non ho voglia di fare polemiche, ha replicato Massimo Seri. Capisco che quando si vuole fare opposizione si deve strumentalizzare tutto. Io tengo sia ad Aset, che è un'azienda ben gestita, ha detto il Sindaco, sia alla città. In un territorio come questo provinciale due società che gestiscono i servizi devono dialogare tra loro e devono condividere delle strategie, a cominciare dall'impiantistica come fanno le altre province. E alcune volte quando vedo anche documenti che in realtà sul falso obiettivo di tutelare un'azienda si rischia di fare dei danni per il futuro, non nell'immediato. Poi passano gli anni, ne vediamo le conseguenze e poi si torna indietro a pensare a chi aveva fatto certi atti. Allora io voglio essere ricordato per un sindaco che ha dato anima e corpo per la propria città ma soprattutto che ha dato impulso allo sviluppo e l'ha tutelato. Ed è l'obiettivo che ho. Quindi per quello che mi riguarda sto lavorando perché ci sia un'impiantistica condivisa dove Aset svolga il suo ruolo. Poi per il resto molte sono chiacchiere strumentali. Poi è anche vero che ho già detto che appartengo a quella categoria di amministratori, che le cose le vogliono conoscere, vogliono approfondire per poter prendere le decisioni più sagge e più giuste nell'interesse dei cittadini. Quando si fanno battaglie ideologiche senza guardare e approfondire non si fa l'interesse della propria città. Questa è la mia risposta con coerenza e con serietà. Questa è la mia risposta.